Nascerà nelle adiacenze di Porto Allegro a Montesilvano la nuova autostazione di Pullman. Presidente, un grande passo avanti. Sì, è una delle opere da realizzare come da previsione di Masterplan, dove sono state stanziati 5 milioni di euro per l'autostazione di Montesilvano. C'è una previsione di spesa di 562 mila euro. L'autostazione servirà per decongestionare il traffico, per favorire lo spostamento a nord-sud nella direttrice dell'area metropolitana. Ci saranno una serie di servizi, sarà utile per il parcheggio degli autobus. Sono previsti 8 autobus da parcheggiare, più ci possono essere dei privati che possono utilizzare con parcheggio specifico quest'area. e ci sarà sicuramente tutta una serie di piccole strutture che favoriranno anche un po' l'economia del territorio. Naturalmente noi ci siamo impegnati come soggetto attuatore. La tua si occupa di tutte le autostazioni in Abruzzo, che sono 8, 2 per provincia. Ne abbiamo già consegnata una a Lanciano, come recentemente è comparso la stampa. Oggi stiamo facendo la convenzione con Monte Silvano. Nell'arco del 2021 pensiamo di poter consegnare l'opera che a quel punto dovrebbe essere messa in sinergia anche con la strada parco. Dunque il transito dei mezzi sulla strada parco dovrebbe essere funzionale rispetto a questa autostazione che stiamo facendo nella zona nord, nei pressi del village. Le autorizzazioni sono ormai definite. L'opera è pronta. Ci sono purtroppo sistematicamente dei piccoli sabotaggi che hanno investito sia le pensiline e in questo momento stanno aggredendo il sistema elettrico. Sindaco, concretamente cosa significa per la città di Monte Silvano e per il traffico della zona dell'area metropolitana la nascita di questa autostazione? Oggi è un importante giorno perché con questa firma, apposta da me e dal presidente della tua Gianfranco Giuliante, abbiamo dato il via ai lavori che conchiuderanno un cerchio, un cerchio nato tanti anni fa e che vedrà il nostro territorio decongestionato da un punto di vista del traffico veicolare, quello che si auspica da tempo, con impatti ambientali notevoli e positivi ovviamente e dimezzerà oltretutto i tempi di percorrenza tra Pescara e Monte Silvano. Si fa un gran parlare di un'area metropolitana che colleghi sempre più i territori. Ecco questa di oggi diciamo che è una giornata importante anche da questo punto di vista.